Buonasera a tutti, questa è la giornata di Alessandro Rubecchi e Alessandro al padrato questa sera perché anche Alessandro, anche l'operatore. Alessandro, una piccola questione di cuore. Sì, sì. Il cuore non se ne può far meno. Anche in un... Sì, no, in un piano perfetto, ammesso che sia perfetto, c'è sempre un granellino di sabbia che incastra i meccanismi, no? E' quello, il giallo, il noir, poi alla fine quella roba lì. E perché il granello di sabbia che sposta gli equilibri e non fa funzionare il piano non può essere una piccola questione di cuore? Ci cederà di innamorarsi anche... Anche il killer. Anche il killer. Anche il killer, è qui. E quindi, allora, lo scopriremo, cos'è stato, come al solito non si può parlare dei gialli. Parliamo, no? Assolutamente. Parliamo di questo. Parliamo di questo. Ma noi andiamo molto indietro, visto che qua vediamo tanti libri gialli. Sì, sì, sì. Il titolo parla di Raymond Chandler, quindi dovremo onorare un po' il tema della serata, che è il padre, il giallo governo del Stato e tutti. Il tema di chiacchieremo e vediamo un po' cosa ci ha insegnato. E cosa ha insegnato da Alessandro Robecchi. Sì, certo. Quindi l'appuntamento è alle 21.30 nei giardini pascoli. Vi aspettiamo. Siamo lì. Ciao.